Vice Sindaco, siamo in conclusione dell'estate, quasi può dire alla conclusione, una bagnata che quest'anno anche, nonostante il Covid, però tanta gente è arrivata da tutta parte d'Italia, ancora una volta a bagnare una città turistica? Diciamo che ancora per noi l'estate non è finita, basta vedere ancora in spiaggia quante persone vanno a godersi il nostro splendido mare, è una stagione meravigliosa sotto tutti i punti di vista, a riguardo i servizi, a riguardo le presenze, a riguardo anche la generosità che chi è venuto a visitarci ci ha messo per una condizione, quella di un'ottima vivibilità della nostra città. Grazie anche ad una forte sinergia dall'amministrazione comunale, commercianti, ristoratori, tutti quelli che ce l'hanno messo tutta affinché questo paese possa esaltare non solo le bellezze ma anche tutti i prodotti che riesce oggi a mettere a disposizione di chi viene a visitarci. Parliamo di prodotti, bagnare ricordiamo città del torrone, del gelato, delle pizze, del pane di grano. Oggi direi anche della ristorazione, noi abbiamo degli ottimi ristoranti che riescono a trasformare il pesce in maniera unica e che sono molto graditi da tantissime persone che appunto posso dire che bisogna prenotarsi dai nostri ristoratori per poter degustare i cibi che sono veramente di ottima fattura. La cosa bella è stata quella del treno degli dei che è arrivata anche a Bagnara, sono arrivati tanti turisti dalla parte di Tropea e hanno degustato i prodotti del vostro territorio. È stata una delle cose che la regione ha messo a disposizione del nostro territorio, dell'assessore Catalfamo e che il territorio ha goduto quei momenti esaltanti con le bagnarote che ricevevano questi turisti che potevano poi nello stesso momento degustare il nostro zibibbo, il nostro vino zibibbo, la pizza alla bagnarota, i gelati, insomma una serie di cose, sicuramente dimenticherò tante altre cose. Sono stati momenti di esaltazione dove tutt'oggi sui social queste persone che hanno avuto questa opportunità ci elogiano per l'accoglienza e anche per quello che siamo stati capaci ad organizzare.